Salve a tutti ragazzi, qui la vostra scarda è Irving Lozzano, è finalmente un giocatore del Napoli e sono gasato a mille. So che, e anche chi mi segue bene lo sa, che nelle storie avevo messo chi preferite tra Ames, Lozzano e Icardi e Lozzano non aveva ricevuto nessun voto. Però comunque stiamo parlando di un giocatore molto forte, ma soprattutto cosa ancora più importante, è ancora possibile fare il doppio colpo, perché si parla di uno scambio milicchi Icardi e poi Ames non è detto ancora l'ultima parola, anche se Zidane ci ha un po' infranto ai sogni perché ha da fa pace che ci revella, perché prima dice che Ames non rientra in nostro progetto e poi va a dire che mi trovo bene ad allenare Ames in forma, eccetera, eccetera. Allora se tutto scemo provo a essere l'incorrenza in persona, però io ci spero ancora. Ritornando però alle cose più importanti, ovvero a Lozzano, signori, Lozzano è un giocatore che conoscevo già, comunque io ho visto fare un ottimo mondiale col Messico, un'ottima Champions League col PSV e quindi è un giocatore che promette bene, soprattutto perché ha 24 anni e potrebbe essere anche l'erede di Mertens, visto che comunque anche Mertens l'avevamo preso dal PSV. Speriamo bene, magari diventerebbe l'erede di Mertens. Comunque Lozzano lo conoscevo già, questo è vero, però appena ho saputo dunque che il Napoli lo voleva prendere mi vado ad informare ovviamente meglio e comunque noto che è un giocatore che è un ottimo attaccante, sa segnare, può giocare sia alla sinistra che alla destra e ha tanta tanta cazzima, quindi è un giocatore veramente che servirebbe molto al Napoli, potrebbe veramente cambiare le partite, ma soprattutto ha delle stazze simili a Insigne e Mertens, però tiene anche molto di più fisicamente rispetto a questi due e quindi ragazzi ci sono tutte le carte in regola per dire che Lozzano è stato un ottimo acquisto, soprattutto anche il prezzo, 42 milioni, un prezzo molto onesto, né tanto né poco, il problema resta solo uno, i posti, cioè là i posti non ce ne stanno, stanno un sacco di giocatori che si giocano il posto lì sulle ali, perché pure Fabian e Zirischi potrebbero giocare lì, e soprattutto c'è un invulnerabile Callejon che è fondamentale per il Napoli che fa anche la fase difensiva, però non penso che Lozzano, pagato così tanto perché alla fine 42 milioni, se uno spende 42 milioni non gli può far fare la panchina e quindi staremo a vedere, speriamo comunque che non deluderà le aspettative e quindi giocherà nel migliore dei modi, dunque il mercato però ancora non è finito, ovviamente aspettiamo tutti con grande ansia un colpo fra uno tra Ames e Icardi, quindi speriamo bene che succederà e quindi ragazzi che vi devo dire, adesso il video di oggi finisce qui, spero di farne altri perché sono riuscito a trovare una postazione, sono stato 17 giorni per vedere se c'era una postazione adatta e questa qui penso che è l'ideale, pure per fare magari il post partita di Florentina-Napoli, la reazione ai sorteggi di Champions, quindi speriamo bene, dunque adesso ragazzi mettete like, commentate, condividete, noi ci ribecchiamo prestissimo con un nuovo video, un saluto a tutti dalla vostra Scarda!